Nel suo programma si dà molta importanza al tema riforma e aggiornamento dell'offerta formativa dell'Università della Basilicata e si sostiene che la nuova giunta regionale intende promuovere il varo di nuovi corsi di laura, più innovativi. Le chiedo se lei ritenga che l'autonomia universitaria sia un valore da difendere o se per caso guardi ad Unibas alla strega di un semplice ente subregionale. Innanzitutto c'è un paradigma che dobbiamo recuperare. Come formiamo i nostri giovani e verso quale direzione anche occupazionale o soprattutto occupazionale noi li formiamo e noi li indirizziamo. E l'Università è un pezzo come la scuola, più in generale è un pezzo estremamente fondamentale esattamente per chiudere positivamente questo paradigma. E noi dobbiamo accompagnarci per le competenze, le qualità, le intelligenze con la nostra Università perché si possa insieme costruire un luogo di pensiero che elabori proposte, programmi e che indirizzi i propri sforzi anche attraverso nuovi corsi se sarà necessario che esattamente recuperino l'istanza dei giovani e il desiderio e la volontà e il bisogno di occupazione. Non abbiamo mai ritenuto l'Università un ente strumentale della Regione. Noi rispettiamo l'autonomia, abbiamo soltanto il bisogno, io credo reciproco, di concertare decisioni, scelte sapendo, consapevoli del fatto che il percorso da compiere, la sfida da compiere epocale in questo tempo è esattamente da compiere insieme. Ecco perché noi avremo bisogno di sostenere sempre più l'Università e l'Università di affiancarsi alla politica e alle istituzioni al netto del colore e delle proprie idee per rilanciare sui temi di programma e sulla formazione spinta. Merito ed efficienza sono altri due temi chiavi della sua campagna elettorale quindi se ne inferisce che lei condivida la diffusa opinione secondo cui merito ed efficienza non siano mai stati granché presenti in Basilicata. A tal proposito le chiedo se lei si sia mai opposto in alternativa se abbia mai pubblicamente criticato in tutti questi anni di attività politica le nomine in enti e società pubbliche lucane regolarmente destinate ad amici di corrente e ad altri alleati di governo spesso con la scelta di personale politico riciclato in ruoli manageriali. Il tutto in sommo spregio del perseguimento dell'efficienza e del merito. Penso la mia posizione sia nota da anni e sia stata abbastanza critica in alcuni casi meno in altri assolutamente positiva in altri ancora perché ci sono qualità messe in campo in Regione tanto nella macchina amministrativa stretta quanto negli enti di diretta emanazione della Regione stessa e ci sono anche a volte ci sono state anche scelte diciamo così molto discutibili e opinabili. Penso che la mia posizione sia stata sempre molto netta e chiara per chi ha seguito la mia evoluzione anche politica e il mio impegno credo che queste cose siano abbastanza note. Ritengo che noi abbiamo bisogno oggi più che mai di rinforzare e di robustire il merito e la competenza ed evitare diciamo errori del passato che hanno magari più premiato sotto utilizzando i bravi più premiato qualche amico e meno diciamo il valore, la qualità e la competenza della persona. La politica degli anni passati giunge ad uno stop ad un cambio di passo e io penso che debba essere insieme a tutti quanti gli altri un interprete fedele di questo cambio di passo. Ancora su merito ed efficienza ci spieghi con quali criteri meritocratici se ci sono stati lei ha selezionato i quattro componenti del listino del Presidente ovvero quei candidati al Consiglio regionale automaticamente eletti se lei diventerà Presidente. Quali particolari curricula di studi quali specifiche competenze o quali talenti riscontrati l'hanno dunque spinta verso questa particolare selezione dei candidati? Ovviamente senza nulla togliere i candidati che sono persone non solo per bene ma anche capaci e politicamente di grande qualità e anche sul piano personale ed etico di grande qualità. Io non ho condiviso questa scelta lo sanno tutti io pensavo esattamente di fare di sterilizzare il listino o addirittura aprirlo a figure diciamo di illustri lucani o addirittura ai quattro presi delle facoltà dell'università tra potenza e materia di Basilicata cioè dare esattamente un'impronta al listino che nella futura legge elettorale di riforma dovrà esattamente scomparire dare un'impronta diciamo di altissima qualità scevra diciamo dal posizionamento interno ai partiti e alla politica stretta. io non ho potuto conseguire questo risultato perché in democrazia bisogna conciliare consultarci socializzarci e quando un partito e anche una coalizione sostanzialmente si indirizza ma particolarmente il mio partito si indirizza su una scelta del genere e a maggioranza anche piuttosto ampia si decide di convergere verso questa soluzione al candidato presidente non resta sostanzialmente che prenderne atto e andare avanti esattamente su questa strada ci può motivare la totale assenza nei suoi interventi pubblici nel suo programma di impegni per il contenimento dei costi della politica ovvero di impegni generali per la razionalizzazione dei costi di funzionamento delle istituzioni nonché riferiti all'urgenza di riformare il sistema dei rimborsi forfettari per i consiglieri regionali oggi previsti nell'abnorme cifra di 4.500 euro mensili per consigliere ritiene temi importanti oppure secondari quelli di una maggiore sobrietà della politica e dell'importanza di un salto etico nello svolgimento dell'attività politica elettiva ed esecutiva due risposte la prima nella proposta di riforma di statuto dei regolamenti del funzionamento del consiglio regionale dei gruppi e anche della legge elettorale ci è inserito esattamente anche questo tema per la verità la seconda risposta è che noi abbiamo già con legge abolito e non da adesso da molto tempo i rimborsi forfettari di cui si parla per cui non c'è una corretta diciamo informazione secondo abbiamo ridotto del 45% lo si vada a vedere lo stipendio del consigliere regionale per cui credo che per dare una corretta informazione noi questa azione l'abbiamo già ampiamente svolta basta soltanto leggere le carte caro candidato presidente un'ultima domanda sulla trasparenza la sua campagna è sicuramente dinamica e questo lo si è notato fin dallo svolgimento della competizione per le primarie ma altrettanto sicuramente è piuttosto costosa ci potrebbe anticipare una sua stima dei costi finora sostenuti e degli ulteriori costi che prevede di sostenere inoltre ci può spiegare come viene finanziata la sua campagna anche qui due risposte la prima i costi che io sostengo e sosterrò saranno ufficialmente come per legge pubblicati rispondono ad un tetto che la norma sancisce e non può essere superato e viene questo tetto coperto nelle spese tanto da contributi volontari tanto regolarmente dichiarati e tanto da diciamo contributi personali nel senso che io autofinanzio per una parte la campagna elettorale che oggettivamente lo si vedrà non ha costi esorbitanti anzi molto contenuti e molto sobri Qual è il valore aggiunto dei coinvolti in rimborsopoli che lei ha ringraziato e indicato come importanti per il suo partito? Ma è un contributo di umano innanzitutto anche nell'atto di responsabilità nel fare un passo indietro e nel cogliere il tema e il bisogno che c'è nella società di rinnovamento e di cambiamento secondo c'è un contributo offertoci in questi anni per molti di loro alla prima legislatura che in tre anni si sono battuti hanno incrociato una congiundura politica difficilissima nazionale e anche regionale e che non per loro responsabilità si recuperano purtroppo uno stop nella loro possibilità di esprimere idee programmi e anche di interpretare i bisogni dei cittadini per cui a loro per il contributo politico istituzionale è anche umano e di responsabilità va il mio abbraccio il mio saluto il mio ringraziamento